Hai già idea di chi si metterà in luce oggi Luca? Credo Paolo Di Bala, è un attaccante versatile, capace di svariare su tutto il fronte offensivo. È molto veloce, dotato di un controllo di palla fuori dal comune, abilissimo nello stretto. Insomma Fabio, ha le doti che ti aspetti da un attaccante argentino. E in più sa anche giocare spalle alla porta, con personalità, nonostante non sia un gigante. Eh sì, è un giocatore sicuramente in grado di decidere le certi della partita. Via la gara! Pellegrini Decidono di giocarla all'indietro. Ottima pressione la sua, palla recuperata. Il portiere la spedisce su. Farmasch, scatta verso il pallone. Paolo Di Bala, la gioca a sinistra. Prova la verticalizzazione. Tenta! Lo toglie dalla porta!